Gara difficilissima, come del resto le saranno tutte da qui alla fine, il monito del DS del Campobasso Stefano De Angelis alla vigilia della sfida con la Vastese, attesa domani al Romagnoli con in panchina il molisano Fulvio D'Adderio e nella dirigenza gli agnonesi Nicola D'Ottavio e Maurizio Sabelli. Il Campobasso, siamo in fiducia, stiamo bene, spiega De Angelis, dobbiamo pensare solo a noi stessi dando il massimo e cercando di giocare, come sappiamo, 11 che vince, non si cambia e infatti mister Cudini proporrà la stessa formazione che ha strapazzato il Castelnuovo Vomano con una sola novità, il probabile rientro nella linea difensiva del centrale Dalmazzi che ha scontato il turno di squalifica, gli farà posto Sbardella, autore di un'ottima prestazione domenica è sempre pronto a dare un contributo importante quando viene chiamato in causa il resto della formazione, Raccichini in porta, Fabriani e Vanzan sulle corsie esterne Dalmazzi, Osbardella e Menna al centro della retroguardia in mezzo al campo Ladu, in cabina di regia, con interni Candellori e Bontà nessun dubbio in attacco, con i tre moschettieri vitali, Cogliati ed Esposito hanno ripreso a correre, ma non sono ancora disponibili, i due centrocampisti Tengorang che è più avanti nel percorso di rientro e Brenci che ha bisogno di qualche altra settimana saranno in tribuna con la speranza di reaggregarsi presto al gruppo Campobasso Vastese sarà arbitrata da Alessandro Cutrufo della sezione di Catania